I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte, no. I fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove mettergli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna. Ma chi paga siamo sempre noi? Chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i povi!